Raga tranquilli che non spoilero niente, state tranquilli, potete guardare il video serenamente Ciao a tutti ragazzi qui da chi è messo sul nuovo video Raga, io come sapete per chi mi conosce sono un cazzo di fanatico della Marvel Io amo la Marvel in tutti i sensi, magari in tutti i sensi no, vabbè, era per dire Raga, io ho guardato tutti e dico tutti i film della Marvel Voi potete chiedermi qualsiasi cosa, io so rispondervi ogni cazzo di cosa Raga, io so tutto, ho guardato dal primo cazzo di film, quindi raga da Capitano America fino a adesso Endgame Raga, io so tutto, so tutto della Marvel, so tutto, sto perfino facendo un mobile della Marvel Sto facendo un mobile, ormai lo sapete no? Sto facendo un mobile della Marvel, vabbè ma questo è un altro conto Raga, tranquilli che non spoilero niente, state tranquilli, ok? Potete guardare il video veramente serenamente, state tranquilli Allora raga, io sono andato a vedere il film quando è uscito il 24 aprile, no? Per me oggi che sto ricevendo questo video è il 26 aprile Questo penso che sia uno dei video che metterò prima di tutti perché se no non è che posso mettere il video ad agosto, ok? Vabbè, è un video che metterò il lunedì 29 aprile È il 29? Spero di sì, vabbè, non mi ricordo se il lunedì questo che viene è il 29 aprile o il 30 aprile Vabbè, secondo me è il 30, penso sì, oggi è il 26, il 30, sì il 29, il 29 è il lunedì Comunque, sono da vederlo il 24, è iniziato alle 9 ed è finito a mezzanotte e dopo quando è finito sono andato al Mac Con i miei fratelli perché raga, i film della Marvel vado sempre a vederli con i miei fratelli Perché dobbiamo capire assieme e vado sempre con i miei fratelli, vabbè, anche con amici Però questo film è stato da vederlo con mio papà perché anche lui è un fanatico della Marvel E con i miei fratelli che anche loro sono fanatici della Marvel Voleva venire anche mia sorella però è piccola e non ci sta seduta 3 ore Non ci sta seduta 3 ore al cinema raga, il film è durato 3 ore e 2 minuti in tutto C'era così tanta gente al cinema che hanno mandato via le persone Io volevo andare nel mio solito cinema dove andavo Che non vi dico dov'è, non vi dico il posto, tanto non lo conoscete, c'è un cinema Andavo sempre nel mio stesso cinema Vabbè, si chiama Cineplex, ok? Ve lo dico così tanto per Si chiama Cineplex, ma raga, c'erano, c'erano, allora, sul Cineplex ci saranno, quante ne so? 10, 15 sale, 20? Non, non, non mi ricordo, vabbè E tutte le sali, tutte le sale, scusate, su un cinema normale ci sono le sale con vari film Invece, quel giorno, il 24 aprile, c'erano tutte le sale solo di Avengers Endgame Io, cioè, pensate quanto cazzo è stato guardato quel film al mondo Tutte le sale con scritto Avengers Endgame Avengers Endgame, Avengers Endgame Cioè, voi vi rendete conto tutte le sale piene? E allora ho detto, porca puttana, sono tutte prenotate No, raga, non c'era più posto, non c'era più posto E allora cosa ho fatto? Sono andato nel cinema, qua nel mio paese Ci sono andato a piedi, fate conto voi, conto è vicino Con l'altro ci andavo in macchina, ci avevo anche 40 minuti Perché, vabbè, dove andavo io di solito è un cinema molto figo Cioè, insomma, è strabello Niente da dire con questo che ho vicino al mio paese Cioè, attaccato a casa mia praticamente Però l'altro è molto meglio E allora ho detto, vabbè, vado al cinema questo qua vicino Tanto, cioè, il film lo vedo lo stesso, non è che muoio per una volta Però volevo tantissimo andare all'altro cinema dove andavo io di solito Ma era tutto pieno, raga E c'è gente perfino, raga, che d'estata Cioè, tipo, io sono, per arrivare lì, per guardare il film Sono arrivato al cinema alle 8 e un quarto Alle 8 e un quarto io ero già dentro al cinema E il film iniziava alle 9 Raga, io, per chi arrivava, che ne so C'era gente che arrivava alle 9, meno 5, 9, meno 10 Gli hanno mandati a casa perché era pieno Io, non lo so, penso che questo film è stato uno dei più visti Secondo me in poco tempo Perché, porca puttana, io non ho mai visto Tipo su Avengers Infinity War C'era gente, sì, ma mai come questo, raga Perché vi giuro che io questo film Cioè, io non ho mai visto sale piene Non ho mai visto un cinema pieno solo per un film Sale piene solo per un film È, 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 cioè, paurosa come cosa Cioè, una figata intendo Tranquilli, raga, non spoilero niente Paurosissima, cioè, una figa Un film che, raga, strabello il film Io, tranquilli, ripeto No, raga, ve lo dico perché voglio Cioè, tranquilli Non vi, non vi spoilero niente Potete guardare il film Eh sì, il film, vabbè Il video fino alla fine State tranquilli Raga, uno dei film dove devi capirci anche Devi capire proprio Raga, strabello Le tre ore sono passate così, porca puttana Guardate il film fino alla fine E, e, vabbè Raga, un film che merita Secondo me L'Oscar non lo prenderà Cioè, sì, spero di sì che lo prenda Non lo so Vabbè, insomma, non lo so Non me ne intendo di Oscar Come si fa a prenderli in un film Perché, come faccio Com'è che posso intendermi Non posso intendermene Vabbè, insomma Spero che spopola ancora di più Di quello che sta spopolando adesso Raga, prima di entrare al cinema Prima di entrare in sala Che era l'unica sala Perché, appunto, in questo cinema Dove sono andato a vederlo C'è una sala Cioè, proprio, il cinema è una sala Per questo volevo andare nelle altre Perché ci sono più sedie Il volume è più figo Però, sono stato contento anche lì Perché, cioè, ero così preso dal film Che non ho guardato le sedie Non ho guardato Sì, vabbè, il volume sì Ero presissimo E quindi, fanculo l'ho guardato E fanculo al resto Non ho voluto neanche prendermi popcorn E raga, poi c'era gente che porca puttana Aveva l'arsena Si portava dietro il frigo Porca puttana Mi sentivi che Mangiavano come degli orsi Porca puttana Io dico Ma, ma mangiate a casa E ci sta quel popcorn Gente che entrava con tre bottiglie di Coca-Cola Sette, otto pacchetti di popcorn Manco gli morissi da fame per tre ore Dio best Madonna, ho gente che si mangiava il signore Perfino Lo vedevi il signore qua proprio Cioè, io dico Gente che faceva rumore Finché il film andava Ovviamente Ok, vabbè Ovvio questo Io dico Mangiate a casa Mangiate più piano semmai E raga Avevo tipo tre, quattro persone vicino a me Cioè, non vicinissimo Non attaccate di sedia Ma, più o meno attaccate Mi mangiava come dei orsi Ma, 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 ma Mi non so Veramente Vabbè, insomma Sì, per chi non si fosse capito Raga, sono Veneto Beh, ormai lo sanno tutti che sono Veneto Veneto nel cuore Orgoglio Veneto, raga Poi, raga Ci sono stati alcuni di voi Che mi hanno riconosciuto al cinema Quindi, bella raga Vabbè E veramente, raga Un film che merita il signore Io ho sempre detto Gente che si alzava prima Andava via A fine film, raga C'era gente che si alzava prima Io dico Quelli sono andati a vedere il film Perché hanno guardato la copertina Non perché sono fanatici della Marvel Perché un vero fanatico della Marvel Sta lì fino alla fine Come ho fatto io Mio papà I miei fratelli E altra gente Metà film Metà gente Ancora questo film Metà gente Che si è alzata Si è alzata Raga, si è alzata metà gente Metà gente si è alzata Quando hanno visto I primi tre titoli di coda Ma porca puttana Non sei un cazzo della Marvel allora Io mi incazzo Io volevo dire Ho detto a alcune gente Raga Tipo Ho detto a due o tre persone State seduti State seduti Perché volevo salvarli Fra virgolette Volevo dirgli State lì State lì Anche se Anche se Per chi ha visto il film Sa Anche se Vabbè Non voglio dire niente Non voglio dire niente Capirete se lo vedrete Magari le persone che hanno Che stanno guardando questo video Hanno già guardato il film Ma comunque non voglio dirlo Per rispetto che magari uno se lo guarda Che ne so Il primo maggio E guarda questo video Il 30 aprile Per rispetto non lo dico Non dico niente Magari uno si guarda questo video Che ne so Il 30 maggio E se lo guarda in streaming Fra un mese E non so Il primo giugno E mi Mi massacra l'anima Perché gli ho spoilerato Ma quindi non dico niente Poi cos'è che stavo dicendo Si Gente che mangiava Faceva il desfo Che si alzava prima Quindi non sono un cazzo Della Marvel Vabbè E vabbè Insomma Un'altra cosa raga Prima di entrare Quando abbiamo pagato i biglietti Io mio papà e i miei fratelli C'era il poster gigante Della Marvel Di Endgame Avengers Endgame Vabbè non della Marvel Scusate Di Avengers Endgame Mio papà chiede Cosa si deve fare Per prenderlo Quella che Dava i biglietti Alla cassa Infatti Ti fermo subito Perché sono finiti Dio bes Cioè porca troia E per fortuna che sono arrivato Alle 8 e un quarto Alle 8 e un quarto Ragazzi c'era già Gente piena Cioè se io arrivavo lì Alle 9 e meno 10 Dovevo andare via anch'io E quindi l'abbiamo ordinato Infatti vado a prenderlo oggi I miei fratelli arrivano oggi Perché io fra un'ora Devo andare a scuola di nuovo Cioè Era un suo film tipo Io non ho mai visto Non ho mai visto Cioè così tanta gente In un cazzo di cinema Veramente Cioè veramente Vabbè Vabbè Fantastico raga Veramente Vorrei dire Vorrei spoilerarvi tutto Ok lo ammetto Vorrei spoilerarvi tutto Ma non lo dico I miei fratelli No non posso dire neanche questo Perché sennò dopo si capisce qualcosa Quindi no sto zitto Ok sto zitto Sto zitto Non ho detto niente Giusto non ho detto niente Una figata raga Ah Raga Io ho detto che C'era gente Che hanno mandato via la gente Perché non c'era più posto Però Hanno fatto entrare Due o tre persone Che una Si è portata la sedia da casa Oppure gliel'hanno data Che era lì fuori Dalla sala Quindi uno è stato In parte Con una sedia da solo E per fortuna era da solo Perché si era in compagnia Addio E due persone per tre ore Sono state in piedi Per tutto il film Per tre ore e due minuti Del cazzo Tre ore e due minuti In piedi Per vedere Avengers Endgame Quelle persone sono da stimare Perché quelle Anche se non c'erano posti Sono state in piedi A vedere il film Quelle sono persone Da ammirare Perché sono veri Fanatici della Marvel Quindi Vi stimo Anche se non vi conosco Se non vi ho visto bene in faccia Quando è stato Mercoledì Si che sono andato a vedere il film E niente No Era giovedì Ah no scusate Mercoledì Sto dando i numeri Raga Ecco di cosa volevo parlarvi Ho L'ansia Sto ripensando ancora il film Non so Ho la pelle d'oca Non si vede Si O forse si Vabbè Sto ripensando ancora il film Raga Per chi l'ha visto Ha visto Detto ciò raga Iscrivetevi Commentate Era un video un po' così E aspettate Iscrivetevi Commentate Lasciate un like Noi ci vediamo Al prossimo video E ti amo 3000 I hope you're feeling I hope you're feeling